Ok, questo è un primo video in esclusiva da New Martina. Le animalier non ci sono solo zebrate, pitonate e leopardate, ma bensì è arrivata anche questa, effetto che parlo, vi faccio vedere. Prima step, pulizia. Prendiamo la nostra pellicola, questa fa un effetto veramente fantastico. Oltre a questa vi faccio vedere anche la cover nuova e l'effetto finale, che adoro troppo. Guardate qua. Poi un 14. Ecco qua. E ora lo andiamo a stendere. Spettacolare. Guardate qua. Bella, eh? E ora vi faccio vedere il risultato finale con la Marti Shine, la nostra nuova cover. Non vedo l'ora di farvela vedere perché è veramente fantastico. Normale. Normale. Sempre qui. Come? Bella, eh? Sì, ma lo diceva male. Marti Shine, la cover 14,99, con la particolarità dei cerchietti glitterati, è la nostra nuova animalier gheppardata, così. Non lo so perché ho detto gheppardo, ma mi dà questo effetto qua, quindi dico gheppardo. Ecco qua, ragazzi. In esclusiva da New Martina, 9,99 la nuova animalier, e 14,99 la Marti Shine. Adoro. Grazie. Grazie. Grazie.